Rita Povonia, sei sposata? Sì, sì. Ma lo dicono tutti. Avete detto una paginata? Come mai a Lugano? Sono molto amica delle suore. Molto amica delle suore? Un microfono. Guardate che ci resta un equivoco. Sì, ragazzi. Eh, ma è proprio, mi avete pensato di avere veramente una bella paginata. State organizzando una turneca nora, allora, con le suore? No, non sono ragazzi. Quello no, siamo venuti per altri motivi, ma non per... E tutti gli amici che sono venuti con voi da Milano, proprio per un incontro amichevole? Per dei consigli, per delle cose. State progettando qualcosa a Lugano? Può darsi, delle turne teatrali, qualche spettacolo, qualcosa. Comunque siamo molto felici, l'importante è questo, no? Molto felici assieme? No, noi siamo molto felici. Per essere qui oggi, assieme? Per essere qui oggi, assieme qui, con questo bel sole, con tanta gente. Solo abbiamo creato un po' di... Rita Favone e Teddy Reno assieme a Lugano. Grazie. 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 Grazie.